l'avevo detto che vincent non c'era guardate tutti è vincent devo mangiare un fastidioso rocione un compromesso mangia questa roccia ascolta vincent non volevamo crearti problemi anche se ci siamo divertiti quando sei finito nei guai forse scapperemo in preda al terrore per un po un'attività non è riconfezionato per l'attimo non è riconfezionato per l'attimo che ti permette un bracione non è mai arrivato o oh Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! No, l'altro nemico comune. Ricordi quell'umano che ti è congetto così con quel marchigegno? Oh, sì. Mi piacerebbe lasciare un bel ricordino a quell'umano, effettivamente. Ci sto. Cogliurci è così facile?